La conferenza stampa è dedicata a rendere conto dell'attività di due anni di lavoro che sono stati dedicati sotto la guida di un gruppo di esperti alla formazione del predossier che riguarda la possibile candidatura dei culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo. L'iniziativa ha un valore transnazionale, intende valorizzare la comunità che è amplissima, non quella solo napoletana o campana, ma la comunità che si dedica al culto di San Gennaro. Sappiamo che esso va declinato nella pittura, nell'arte, nella cultura, nella musica, quindi i valori che vengono portati in questa possibile candidatura sono molteplici. Proprio come la Convenzione sul patrimonio mondiale dell'UNESCO ritiene per l'immateriale che debbano essere i requisiti di base su cui le comunità possano trovare la loro identità.